pensate questo è il video numero 1500 in una realtà televisiva all'italiana apparirebbe il conduttore che dice siamo a 1500 puntate io che cosa dico siamo a 1500 giorni che ci vediamo quotidianamente ci vediamo quotidianamente con quella dozzina di persone che mi seguono quotidianamente e mi chiedo serve a qualcosa tutto quello che sto facendo serve a qualcosa questo contatto ma non lo so Grazie a tutti